Brutta sorpresa per il personale scolastico della scuola dell'infanzia Salgaria Strettoia. All'apertura dell'istituto infatti si sono trovati di fronte ad un albero di alloro presente nel parcheggio della scuola che a causa del vento si è spezzato finendo con la chioma proprio accanto all'ingresso dell'edificio. Un crollo che fortunatamente non ha causato nessun danno alla struttura tanto che la scuola è stata aperta e l'attività didattica si è svolta regolarmente dopo aver messo in sicurezza la zona intorno all'albero. La responsabile del plesso è immediatamente inviato la comunicazione al dirigente del comune e il servizio tecnico ambiente e manutenzione ha incaricato una ditta esterna per la rimozione del tronco caduto. Una fortuna sicuramente che il fatto sia avvenuto in orario di chiusura della scuola ma quello che lascia perplessi è l'evidente stato di stabilità precaria di questa pianta si notano infatti chiaramente le condizioni del legno alla base dell'alloro quasi completamente marcio.